Io vorrei che il mio pagato fosse dato anche alla signora che avete fatto vedere in un servizio qualche giorno fa una terremotata che sono 1197 giorni che sta in un container e che deve rimanere là perché lo Stato non ha risolto ancora il problema dei terremotati di Emilia Romagna Io vorrei che lo Stato pagasse il signore per ospitare la signora che abbiamo visto italiana che potrebbe essere mia nonna, che dorme in tram Io vorrei anche questo, non penso di chiedere troppo e se qui è facile per il signore probabilmente attaccare Matteo Salvini che è diventato lo sport nazionale dopo Alfano anche il signore ha la fobia di Salvini evidentemente ma al di là di questo, il movimento di Matteo Salvini sta dicendo una cosa molto semplice guardate che se si continua così sulla fase di emergenza senza pianificare arriviamo allo scontro sociale e per fortuna che c'è un partito che sta cercando di tenere le persone per evitare che ciò accada questo purtroppo non lo si capisce e purtroppo noi abbiamo cittadini italiani che sono umiliati e che vivono in condizioni di povertà una, una una